Il Consiglio Comunale di Domodossola ha votato no alla mozione presentata dai consiglieri Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia ed Elena Gandolfi della Lega che chiedeva all'amministrazione di vigilare sul futuro delle opere dei padri Cappuccini, in procinto di lasciare la città. Dibattito acceso dalle parole del sindaco, che ha pesantemente criticato la mozione e lo scopo col quale è stata scritta. Al fine ha però rimarcato la necessità di un... Grazie per la visione!